per realizzare la nostra borsa avete bisogno del cordino slim nella variante bordeaux che lavoreremo con l'uncinetto del 3 e mezzo avrete bisogno di un fondo 30x10 sempre della stessa variante colore ho poi scelto due manici esagonali in metallo avrete bisogno di tre chiusure a calamita con alette ed infine come decorazione ho scelto un ciondolo della linea butterfly iniziamo dunque dalla preparazione del fondo vado a rientrare in un foro qualsiasi e comincio la mia lavorazione lavorerò tutto a punto basso e andrò a lavorare due punti bassi per ognuno dei fori disponibili soltanto in prossimità degli angoli andremo ad aggiungere delle catenelle per allentare un pochino la tensione quindi facciamo da subito degli aumenti quando arrivo infatti all'angolo come noterete nella parte esterna la distanza tra i fori è maggiore quindi per dare una minore tensione al filo vado semplicemente ad aggiungere una catenella continuando a lavorare sempre due punti bassi per ogni foro in questo modo arrivo al foro successivo senza dover tirare troppo il filo faccio di nuovo una catenella e due punti bassi e di nuovo ripeto la catenella di separazione e due punti bassi in questa maniera vedrete che agli angoli si andrà a generare meno tensione quindi andrò a procedere nello stesso modo andando ad eseguire due punti bassi per ciascun foro e ripetendo gli aumenti quindi le catenelle negli altri angoli termino il giro andando a chiudermi con un punto bassissimo sul primo punto basso realizzato quindi chiudo il giro numero uno e andiamo ad avviare il giro numero due nel quale lavoreremo un punto basso per ciascuna maglia e ovviamente lavoreremo un punto basso anche sulle catenelle di separazione che abbiamo aggiunto quindi faccio la catenella rientro nello stesso punto lavorando la prima maglia bassa e procedo lavorando un punto basso per ciascuna maglia sottostante ovviamente dobbiamo lavorare anche le catenelle quindi fate attenzione perché il punto è leggermente più piccolo quindi potreste saltarlo quindi un punto basso per ciascuna maglia sottostante quando trovate la catenella adesso lo rivediamo insieme entrate nel punto basso poi entrate nella catenella che si trova tra i punti e andrete a procedere punto su punto terminando il giro numero al termine del quale avrete un numero di 124 maglie basse ve lo scrivo in alto queste 124 maglie non sono però divisibili per tre quindi adesso andiamo ad avviare il terzo ed ultimo giro di punto basso nel quale andremo ad inserire 8 aumenti quindi andremo ad inserire gli aumenti negli angoli per fare in modo di avere alla fine del giro 132 punti bassi i quali sono divisibili per tre quindi potremo poi nel giro successivo andare ad avviare il punto di lavorazione prescelto ricomincio quindi con la catenella e quindi vado a rientrare nello stesso punto lavorando la prima maglia bassa e procederò lavorando un punto basso per ciascuna maglia disponibile mentre negli angoli andrò a concentrare i miei aumenti come detto da 124 punti che avevo nella riga precedente dovrò arrivare a 132 quindi una differenza di 8 punti quindi andrete a lavorare due volte un punto basso nella stessa maglia di base e questo è il vostro aumento ovviamente l'aumento lo andrete a ripetere in tutti e quattro gli angoli in questo modo andate ad allentare la tensione che proprio in questi punti risulta più critica ovviamente la lavorazione del fondo può cambiare se voi utilizzate un fondo diverso un fondo più grande oppure utilizzate un filato diverso quindi quello che voi dovete ottenere a prescindere dal fondo utilizzato dal filato utilizzato è un multiplo di tre io al termine di questo giro avrò 132 punti e quindi potrò poi avviare la lavorazione prescelta il punto che ho scelto è davvero semplicissimo ripartiamo con la catenella e nello stesso punto di base entriamo per ben tre volte lavorando prima il punto basso e poi lavorando due maglie alte quindi filo sull'uncinetto entro lavoro il primo punto alto riprendo il filo sull'uncinetto e lavoro il secondo punto alto questo è il nostro gruppetto molto semplice da lavorare composto da tre maglie un punto basso e due maglie alte che ripeteremo per tutta la lavorazione quindi saltiamo due maglie di base e ripetiamo questo gruppetto nella terza maglia disponibile quindi parto col punto basso rientro e lavoro poi le due maglie alte una e due salto di nuovo due maglie di base e nella terza ripeto il punto basso e le due maglie alte questo è quanto quindi andrete a ripetere questo gruppetto di tre maglie per tutto il giro fino a completarlo e poi a partire dal giro successivo andremo a creare una piccola variante infatti il punto rimane sempre lo stesso quindi lavoreremo questo gruppo di tre maglie per tutto il tempo soltanto che per ottenere la texture particolare che avete visto senz'altro nell'anteprima della borsa un giro si dovrà lavorare dal dritto e un giro dal rovescio lavorato l'ultimo gruppo di tre maglie dovreste avere due maglie di base libere questo vuol dire che avete lavorato correttamente diciamo nella riga precedente quella dei punti bassi lasciando appunto il multiplo di tre quindi non ci resta che chiudere con un punto bassissimo e completare la nostra prima riga di lavorazione come detto per ottenere questa texture questo punto tessuto così particolare dobbiamo semplicemente ripetere la stessa sequenza ma girando il lavoro cioè andiamo a lavorare una riga dal dritto e una dal rovescio quindi non dovete fare altro che girare il lavoro recuperare il vostro filato e ripetere la sequenza di punti rispetto alla posizione nella quale mi trovo però non sono posizionata alla perfezione quindi eseguo due maglie bassissime una e due e quindi sulla seconda vado a rifare la mia catenella e rientro lavorando il punto basso e le due maglie alte una e due salto di nuovo due punti di base e nel terzo ripeto la sequenza quindi se voi guardate attentamente saltando due maglie di base entrate nella terza la terza è una maglia leggermente più grande rispetto alle altre quindi non fate assolutamente fatica ad individuarla e come vedete il punto rimane praticamente lo stesso vedete questo punto è leggermente più lungo rispetto agli altri vedete due punti e il terzo è leggermente più lungo dovete entrare in questo punto che è leggermente più lungo e lavorare punto basso punto alto e punto alto procediamo sempre saltando due maglie entrando nella terza e lavorando la nostra sequenza di punto basso punto alto e punto alto e questo fino a completare tutto quanto il giro al termine del quale dopo aver fatto l'ultimo gruppetto mi vado a chiudere sempre con un punto bassissimo sulla prima maglia tenete sempre bene in tensione il filo in modo da mantenere questi punti accostati e in questo modo vedrete che la chiusura dei giri non si vedrà vi faccio notare la bellezza della texture che è davvero spettacolare per la sua semplicità e la otteniamo sempre voltando il lavoro quindi fatto il giro dal rovescio volteremo cammineremo di nuovo con due maglie bassissime e quindi andremo a ricominciare con la catenella ed il punto basso lavorato sempre nella stessa maglia seguito dalle due maglie alte quindi filo sull'uncinetto punto alto filo sull'uncinetto punto alto e ripetiamo la nostra sequenza come detto sul bordo superiore se piegate leggermente noterete che c'è una maglia leggermente più lunga rispetto alle altre e questo sarà il vostro punto di accesso se non riuscite ad individuarla comunque quello che potete fare è controllare i ventaglietti vedete è molto semplice individuarla perché è il punto che precede vedete questo punto che si trova in mezzo separe due ventagli non dobbiamo entrare qui ma nella maglia precedente quindi non entriamo nel punto che separa i ventaglietti ok ma nel punto precedente che come vedrete dall'alto vi risulta più dilatato quindi non qui vedete nel punto che separa i ventagli ma nel punto prima che visto dall'alto come detto è leggermente più lungo quindi seguendo questa indicazione senz'altro non sbaglierete quindi procederete in questo modo lavorando un giro dal dritto ed uno dal rovescio fino a sollevare tutto quanto il corpo della nostra borsa guardate che bella la lavorazione di questo punto che creando questa texture particolare ricorda tanto il punto nocciolina però risulta più leggero comunque molto compatto il lavoro e la texture essendo uniforme può essere letta veramente in qualsiasi direzione quindi si presta per essere lavorata su veramente tantissimi modelli di borse per quello che riguarda l'altezza del mio corpo borsa io mi sono fermata a 22 centimetri anche perché se guardate la rocca del filo sono agli sgoccioli quindi per evitare di prendere la seconda e di rendere la borsa più pesante ho preferito fermarmi a 22 ma potete arrivare su borse di queste misure fino a 28 centimetri dipende da quanto la preferite capiente già a 22 vi assicuro che come capienza come ampiezza quindi come comodità ci siamo alla grande quindi una volta ottenuta la misura che ci piace andrete a procurarvi alcuni marca punti che sono fondamentali perché questi adesso ci aiuteranno a creare una suddivisione importante dobbiamo infatti creare diciamo una prima suddivisione che è quella che ci permette di dividere esattamente in due metà la nostra borsa noi avevamo 132 maglie basse che sono appunto un multiplo di 3 quindi se divido 132 per 3 dovrei avere 44 motivi sul giro totale quindi mettendo i due marca punti non vado a fare altro che dividere il numero di motivi quindi avrò 22 motivi da una parte 22 motivi dall'altra una volta che ho individuato la metà andrò a creare un'ulteriore suddivisione la prima suddivisione dovrà riguardare i lati quindi volto leggermente la borsa rispetto a questo che il marker centrale vedete ho sistemato altri due marker ravvicinati contando quattro motivi a destra e quattro motivi a sinistra questi ci permetteranno tra un attimo di fissare il bottone a calamita e di formare la piega che darà poi il taglio alla borsa chiaramente fatto da un lato ripeteremo lo stesso passaggio dall'altro quindi contando quattro motivi quindi voltando il lavoro di nuovo rispetto al marker centrale lascerete quattro motivi a destra quattro motivi a sinistra e il soffietto in questo modo si ottiene a questo punto dobbiamo tornare sul lato lungo una volta che avrete creato il soffietto rispetto al marker giallo che appunto vi trovate qui all'angolo dovete andare a contare da entrambi i lati cinque motivi e sistemare il marker così da averne quattro al centro nello spazio che è compreso fra questi due marca punti andremo tra un attimo a sistemare il nostro manico ma prima vado a fare un giro di punto basso cercando di lavorare un pochino più stretto ovviamente ho preferito mettere i marker adesso perché avete meglio la possibilità di individuare i motivi perché formano questi piccoli archettini questi piccoli rilievi quindi contarli è più facile adesso che dopo quando avremo fatto il giro di punto basso quindi i marker adesso cosa facciamo li andiamo a togliere a riposizionare mano a mano che lavoriamo questo giro di punti bassi quindi rifaccio la catenella entro in ogni maglia disponibile lavorando una maglia bassa e lavorando un pochino più stretto perché dobbiamo sempre compattare il bordo se non riuscite a lavorare più stretto potete prendere anche mezzo numero di uncinetto in meno man mano che incontrate il marker lo togliete per poi riposizionarlo in modo che poi non perdiamo i riferimenti utili per poter applicare prima le chiusure a calamita e poi il manico quindi quando sopraggiungo vedete vado a togliere il marca punti lavoro il punto basso e rimetto il marker in questo modo il lavoro l'abbiamo fatto già una volta e non lo dovremo ripetere quindi andremo a procedere in questa maniera lavorando un punto basso su ciascuna maglia e riposizionando via via i nostri marker al termine del giro invece di eseguire la chiusura a punto bassissimo vado a sfilare l'asola dopo aver tagliato il filo entro posteriormente con l'uncinetto in quello che era il punto di chiusura aggancio il filo e lo porto verso l'interno della borsa quindi rientro nell'ultimo punto lavorato prendendo la costa interna della maglia bassa e in questa maniera praticamente ricostruiamo una catenella e la chiusura sarà totalmente invisibile basterà fermarla e farla ripassare internamente per alcuni punti una volta che avrete fermato il filo e avrete chiuso il giro di punti bassi andiamo adesso a vedere come lavorare sui marker come primo passaggio andremo adesso a sistemare i nostri bottoni a calamita e i marker che abbiamo posizionato sono quelli che ci fanno da riferimento quindi da un lato li ho sistemati dall'altro ancora non del tutto quindi rispetto ai marker come vedete andate ad entrare con il vostro bottone che è dotato di alette le alette devono sbucare dall'altro lato della borsa mettete il fermo altrimenti poi comunque il bottone non vi resta fermo e andate a ripiegare le alette facendo una leggera pressione se non riuscite con le dita come spesso accade potete aiutarvi con una pinza una volta piegate correttamente le nostre alette possiamo andare ad eliminare completamente i quattro marker che ci sono serviti per posizionare i bottoni a calamita quindi ripreparate l'uncinetto il filo perché adesso lavoriamo per poter posizionare anche i manici prendo quindi il filo e l'uncinetto e vado a rientrare nel punto precedente al marker quindi i marker non li tolgo e soprattutto vado a lavorare questo passaggio importante nella costina anteriore cioè entro ma prendo soltanto la costina rivolta verso di me e quindi lavoro la mia maglia bassa vado nel punto successivo prendo sempre la costina davanti e lavoro il punto basso e lavorerò un punto basso per ciascuna maglia compresa fra questi due marker quando avrete lavorato tutti i punti andrete a voltare il lavoro e a proseguire come vedete nella parte interna è visibile la costina che non abbiamo lavorato perché noi abbiamo lavorato su quella anteriore questa interna che è la costa retro ci servirà poi per eseguire la cucitura di questa fascetta che noi stiamo andando a realizzare quindi recupero l'ultima asola volto il lavoro senza fare catenella e torno indietro lavorando punto su punto le mie maglie basse per un totale di 5 righe lavorate 5 righe in andata e ritorno possiamo andare a prendere il nostro manico e quindi ad eseguire la cucitura di questa fascetta cucitura che avverrà nella parte interna dove abbiamo lasciato libera appunto la costina dei punti che si trovavano sul bordo della borsa quindi prendo il mio manico prendo il lato lungo che quello della base lo vado a posizionare ripiegando in questo modo la fascetta 5 righe sono sufficienti per lo spessore di questo manico chiaramente se andate a scegliere un manico diverso potreste avere bisogno di un numero maggiore di punti detto questo rientro nella costina interna riprendo l'ultima asola e la faccio passare tiro per bene il filo in modo da non lasciare questo punto lento e procedo eseguendo la cucitura in questo modo sempre con l'aiuto dell'uncinetto vado ad entrare in ogni costina lasciata sul bordo della borsa quindi parliamo della costina retro entro e vado a prendere la costina esterna del punto basso che si trova sulla fascetta ed eseguo una maglia bassissima di nuovo entro nella costina sul bordo della borsa e nella costina esterna del punto chiaramente la fascetta è partita dal bordo quindi il numero di punti che si trova in basso è uguale al numero di punti che si trova in alto quindi la cucitura verrà perfetta quindi il punto nella costina e il punto sulla fascia il punto sulla costina e il punto sulla fascia quindi come vedete i punti corrispondono quindi è un'operazione semplicissima al termine della quale non dovrete tagliare il filo perché dal punto in cui ci troviamo andremo a realizzare una seconda fascetta che lasceremo nella parte interna della borsa e che fungerà da chiusura quando avrete lavorato tutti i vostri punti quindi eseguita la cucitura con la maglia bassissima senza tagliare il filo volterete il lavoro e procederete lavorando tre righe di andate e ritorno entrando in ognuno dei punti disponibili e lavorando per ognuno una maglia bassa quindi entrate in ogni punto senza fare la catenella e lavorate un punto basso per ciascuna maglia sottostante per un totale di tre righe una volta concluse le nostre tre righe andate e ritorno abbiamo due fascette interne che ci permetteranno di applicare il terzo ed ultimo bottone a calamita andrete a posizionare una metà su una fascetta facendo spuntare le alette dall'altra parte metterete l'altra metà sull'altra fascetta e poi con l'aiuto dei fermi andrete a bloccare anche quest'ultimo bottone siamo al termine del progetto questo è il quantitativo di filato che vi avanza quindi su una base 30 altezza 22 una rocca è più che sufficiente a meno che vogliate una borsa più grande detto questo noterete la bellezza della texture di questo punto che ricorda un pochino il punto nocciolino è ma meno tridimensionale meno compatto vi consuma meno filo quindi vi dà comunque una texture sofisticata rimanendo semplice quindi adatta anche a chi non ha molta esperienza nell'ambito delle borse al tempo stesso insomma non è banale soprattutto non vi consuma molto filato avete visto che una volta sollevata la borsa i passaggi per creare gli accessori sono veramente pochi dobbiamo posizionare correttamente marker per mettere da prima i bottoni a calamita che ci danno il taglio a goccia quando vogliamo portare la borsa più chiusa e ovviamente i marker centrali che ci permettono di realizzare la spalletta che comprende i manici all'interno approfittato per posizionare poi un altro bottone a calamita e quindi ottenere anche una comoda chiusura per quello che riguarda la fodera c'è una lezione di scuola di uncinetto a cui potrete fare riferimento quando avete bisogno di avere la borsa più capiente perché magari dovete portare qualcosa di ingombrante dei documenti oppure insomma avete più oggetti del solito i bottoncini si possono aprire e quindi chiudere al bisogno ed avere una borsa di misura diversa oltre i manici chiaramente potete andare a posizionare un moschettone come quello che appunto si trova qui sul ciondolo ed eventualmente andare ad utilizzare al bisogno anche una tracolla per avere una portabilità anche da spalla quindi detto questo non mi resta che salutarvi e ringraziarvi sperando anche questa volta di avervi dato uno spunto creativo utile grazie come sempre per avermi seguito e alla prossima